Clamoroso all'Olimpico, all'ultimo istante il gol di Marin, il piazzato di Marin fa esplodere Zanetti che si è denuda un altro po' e fa recriminare tanto Sarri, ma soprattutto più che di Sarri la colpa di questo crollo, perché questa secondo me nonostante la non sconfitta per come si era messa a 10 dalla fine è una debacle bella e buona della Lazio, è colpa dei giocatori. Non tanto sul secondo gol, anche se dal limite non puoi lasciar calciare, ma quanto sul primo gol, ma come fai a concedere in quel modo da una palla inattiva a tuo favore un 2 contro 1 all'Empoli? Come fai a mettere i sai in situazione di essere da solo contro 2 dell'Empoli? Quando stai in gestione ma come fai? Ma quello è un errore imperdonabile secondo me. Comunque una Lazio buona fino all'ottantesimo, un Empoli non voglio dire non pervenuto ma poco ci manca, un Empoli che tranne qualche squillo molto, squillo per dirla così, squillo col silenzioso, comunque qualche squillo molto timido, perso al colpo di testa di Caputo a inizio secondo tempo e a poco altro, non si era quasi mai visto l'Empoli. La Lazio ha subito la partita in discesa perché subito fa gol, nel secondo tempo raddoppia e a quel punto sembrava ormai complice anche un Empoli che non dava segni di vita. Sembrava comunque una partita impossibile da riprendere, anzi si è rischiata anche la goleata perché se lì Mininkovic comunque fa gol e Vicario non la prende facendo un miracolo è 3-0 e secondo me finisce veramente male per l'Empoli. Però poi alla fine così all'ottantesimo l'Empoli si risveglia sfruttando quell'errore clamoroso della Lazio e cambia tutto, cambia veramente tutto e quindi l'Empoli si prende un punto fondamentale per la salvezza, la Lazio non accorcia sull'Inter e perde punti. Rispetto alla Juventus ora vedremo sicuramente ne guadagna probabilmente su una fra Roma e Milan, sapete benissimo come la penso e come finirà però comunque diciamo che è una Lazio che oggi è praticamente suicidata perché la partita era vinta, la partita era veramente vinta e la Lazio anche quest'anno soffre di una discontinuità che definisco cronica, scusate non sto bene, definisco cronica per quale motivo? Perché l'anno scorso magari questa discontinuità era più difensiva, dipendeva tanto da qualche cappellata in difesa. Quest'anno secondo me invece più che difensiva è una discontinuità e anche una debolezza mentale, caratteriale, manca proprio la forza mentale, troppi di questi crolli. A Lecce fai un primo tempo ottimo, nel secondo sparisci, nel secondo esci dal campo, con la Salernitana primo tempo ottimo, poi un giallo te cambia la partita, te parte la ciabatta e la perdi, la perdi male anche in casa. Oggi è una partita che praticamente ti hai riportato a casa e la pareggi con due gol presi negli ultimi dieci minuti. È una Lazio che evidentemente ha qualche problema più che tecnico, perché anche oggi comunque la partita non era stata entusiasmante, ma era stata senz'altro buona fino al gol del 2-1, anche tecnicamente. Comunque la Lazio ha fatto vedere delle buone giocate, però poi se ti addormenti così, fia mia, che pretendi? È una Lazio che comunque concede poco, ma quel poco che concede oggi veramente l'ha fatta, entra tutte e due le palle che ha concesso, i due tiri in porta che l'Empoli ha fatto, sono entrati entrambi. Quindi, che vi devo dire, non pensavo sinceramente che l'Empoli l'avrebbe mai ripresa, ma così è andata. Ora, Lazio che quindi non riesce a ritornare in carreggiata dopo il KO pesante di Lecce, rimane là e sicuramente spreca una grande opportunità per riavvicinarsi alla Champions. Ora però lasciatemi andare che sono curioso di sentire Sarri che sementa per giustificare sto pareggio. Ciao!